Ciao a tutti, ci incontreremo all'Università del Calcio, un master che parlerà di calcio dalla A alla Z, ci saranno molte persone che possono insegnare calcio, miei colleghi, procuratori, allenatori, uomini della medicina, scouting, management e tanti altri. Quindi mi raccomando ci vediamo presto all'Università del Calcio. Ciao a tutti!